Turit 2012, stand dell'XOR con Daniele Ceccotti, anima e cuore di Camper Business. Allora, Daniele, di che cosa stiamo parlando? Questa è una monità, una monità interessantissima, non solo per il nostro settore, ma lo è in generale per il mondo delle due ruote. Noi abbiamo importato, ormai tre anni, delle piccole moto pieghevoli, e proprio sulla scolta delle piccole pieghevoli rimasi interessatissimo da questo oggetto che ho qui adesso, sui tavolo, noi deve rimpresso che questi sono gli ultimi due prodotti precedenti all'ottenimento dell'omologazione europea. Si tratta di scooter elettrici che hanno prestazioni addirittura superiori a equipollenti termici. Superiori? Superiori assolutamente. Io parliamo di due scooter che hanno nella loro tipologia l'uno, come lo dato, come ciclomotore, quindi analogo ai cinquantini, per capirsi con tantino, una velocità massima consentita e comunque limitata di 45 km di orari con un'accelerazione formidaria. Non è un caso che il costruttore, l'azienda francese, chiama questi motori le Ferrari degli scooter, perché paragonati a qualunque altro tipo di prodotto, analogo, termico, siamo su situazioni e soluzioni assolutamente superiori. Al più poco superiori. E dicevamo di questi scooter che sono praticamente pieghevoli, oltre ad essere completamente elettrici. Anche pieghevoli. Allora, completamente elettrico già significa velocità, silenzio, no inquinamento, no bollo per cinque anni, possibilità di entrare nei centri storici o comunque in tutte le città dove ci sono limitazioni del traffico. Questo credo che sia uno dei requisiti indispensabili oggi per chi ha bisogno di un oggetto che abbia utilizzo quotidiano per lavoro, per la protezione, per lo studio, ma anche, e credo che siano tantissimi, quelli che hanno già dal tempo abbandonato le automobili per andare a recarsi a lavoro o studiare con uno scooter. Oggi non si può non tenere in considerazione la possibilità di utilizzare proprio questi argomenti che, se vogliamo, sono nobili e verdi, ma io direi soprattutto economici e totalmente in linea con quello che sarà il futuro della mobilità sostenibile non solo in Italia ma in tutta Europa. Il vantaggio, se vogliamo aggiuntivo, è che rende unico questo scooter nella totalità sul panorama degli scooter europei, non europei, asiatici, cinesi, se vogliamo, è il fatto di essere pieghevole. Pieghevole e trasportabile, cioè divisibile in due esatti componenti, la batteria e il corpo scooter, quindi lo chassis. Se in un attimo vogliamo vederlo... E a questo punto direi che assolutamente sì. Adesso non si sente quando parla... No, ma non c'è problema. Si rimuove il palco batteria, lo scooter a questo punto è a terra, il palco batteria non è nient'altro che un trolley, un trolley di dimensione assolutamente normale. Lo lasciamo da una parte ed è autonoma, ma a questo punto lo scooter subisce un banalissimo pieghe di questa tipologia. a questo punto si può caricare su un camper, guarda caso, caricarlo in treno, portarlo in ascensore, portarlo in ufficio, non perde benzina, non perde olio, non ha olore, è sicuramente pulito prima e dopo il suo utilizzo. Ovviamente non ha bisogno di manutenzione come tutti i motori elettrici, brushless, ma non ho detto la cosa forse più curiosa, che con un pieno di elettricità a 0,7 centesimi si percorrono 100 km. È l'autonomia minima garantita da questa batteria che ha i polimeri di litio ad alta densità, equivalente alle batterie dei telefonini, c'è una differenza che pesa 30 kg la batteria e 53 kg il scooter. Che tra l'altro è facilmente apribile e chiudibile, come abbiamo visto, quindi a prova anche di cervello di donna? A prova di cervello di donna, ma a prova di taglia, perché è uno degli scooter che ha la plancia pari, quindi completamente adatta per trasportare borse, equipaggiamenti, e soprattutto un baricentro bassissimo che consente al modello 8 kW di raggiungere una velocità di 120 km orari. In quel caso, preferito a uno scooter, se vogliamo, tradizionale e convenzionale, permette le due autonomie, due range d'autonomia, in città 100 km con una carica di batteria, fuori città con velocità di crociera di circa 80-90 km e addirittura 85-90 km di autonomia. Sì, ecco, in questo periodo la velocità di crociera avrei detto una velocità media o qualcos'altro, perché non mi sembra il caso, ma vista la novità e vista l'importanza della novità, te la lasciamo passare. Grazie! Grazie!